Mara Venier varcherà la soglia rossa del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni andrà in onda lunedì 20 novembre 2017 in prima serata su Canale 5. Un nuovo e super atteso appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show che sta appassionando da settimane il pubblico nostrano e che torna ad essere condotto per il secondo anno consecutivo da Hillary Blasi in coppia con Alfonso Signorini. I concorrenti hanno trascorso più di due mesi di convivenza forzata e la finale è sempre più vicina. La giunonica conduttrice è infatti la sorpresa che il GF ha voluto fare al paroliere in occasione della sua nomination contro Cecilia, Ignazio e Ivana. Intanto non si fermano le polemiche fuori dalla casa e nei salotti mediatici per la relazione nata all'interno del programma fra la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser. Nel corso della nuova diretta assisteremo all'ingresso di un personaggio molto noto. Il sussurro di Mara Veniero è prevista anche una sorpresa per Ivana Marazzova, si tratta della finale del Grande Fratello Vip perché rovinarla a tutti coloro che si godono ogni puntata.